Calmo, stai molto calmo stamattina. Allora, questo non è ping pong. Porco il c***o, ok? Non è ping pong. Non ce la faccio più a ricevere ogni giorno decine di segnalazioni di questi gonzi giapponesi che buttano giù i birilli giocando a ping pong. È come se a Dino Meneghin, ve lo ricordate Meneghin, il giocatore di basket, ogni giorno mandassero decine di segnalazioni di video degli Harlem Globetrotter spacciandogli per fenomeni dell'NBA. Mi infastidisce sta cosa che non riesco a resistere. Non so perché. Bisogna scavare un po' di più, capito? È come se io ti dicessi, per scavare in giardino piglia la palettina di, chi è questo? Del Graffalù, capito? Noi dici, ma io faccio il giardiniere, non posso scavare con la palettina del Graffalù. Che c***o. Ma dobbiamo stare calmi. Il fatto è che, se tu hai giocato da professionista, e io ho giocato da professionista 25 anni fa, avevo il capello lungo con la coda e ero un carciofo perché erano i primi cinque d'Italia, non ero un Embo Kid, ok? Però è una roba che ti rimane dentro. E tuttora, capito? C'è chi va in discoteca e c'è chi, come me, passa un sacco di tempo a guardarsi gli ultimi video su YouTube. Adesso ci sono i mondiali, peraltro. C'è Malong Fan Zendon, Timo Ball che spara le ultime, ma ancora è capace. Dima Okcharov e via dicendo. E allora sei permalosamente sensibile quando vedi un po' il culto dell'ignoranza che dà visibilità a delle cagate e non dà visibilità magari ai grandi giocatori, ai grandi punti, alle robe vere. Per una volta per tutte allora smarchiamo alcuni luoghi comuni che assillano il nostro amato ping pong. Anzitutto sì, uno dovrebbe chiamarlo tennis tavolo, ma va bene anche ping pong. Basta che ci capiamo sui fondamentali. Numero uno non è un gioco, è uno sport. Uno sport olimpico. I know we are the Olympics. Per diventare bravo ti devi allenare come un assassino. Classica roba è che usi il cesto, come in questo video qui, dove ti fai un mazzo così. E questo è il riscaldamento per la partita. Non è neanche l'allenamento. L'allenamento è ancora peggio. Zanjic è peraltro che è stato un fenomeno. Numero due. Quando andrete in vacanza la prossima volta? E ci sarà il tavolo da ping pong. Inevitabilmente incontrerete uno che dice io sono campione italiano del cosa. No, non sei campione italiano. Ma com'è, come non è? Tutti a ping pong pensano di essere i campioni italiani, i campioni dell'oratorio, i campioni del mondo. Vincono due partite con l'amico sfigato e a quel punto pensano che sono dei fenomeni. Non lo sono, va bene? Vai sul sito, fitet, c'è la lista dei campioni italiani. E lo vedi, sei nella lista, non lo sei, non sei campione italiano. Numero tre, serve un fisico pazzesco. Cioè, devo parlare, devo dimostrarlo. Eccolo qui. Per essere a livelli alti, come tutti gli sport amici, devi avere un fisico pazzesco. Allenamento fisico incredibile, perché? Perché devi essere veloce come Bolt, forte fisicamente e molto resistente. Perché devi sbombardarne, capito? Non una, magari ne devi tirare 35 per fare il punto. E questo in continuazione, tutto il giorno, tutto l'anno, per anni. Altra cosa. A ping pong non si vince con i trucchetti. È come dire che a calcio vinci con i colpi di tacco. Ma quanti colpi di tacco ci sono in un match complessivo? Si vince di tecnica, di tattica, e tirando delle gran cannonate. E poi altro luogo comune è che sia un gioco di riflessi, no? Che tu sei lì, se c'hai riflessi veloce allora giochi. No, è tutto l'insieme, è uno sport come gli altri. Come dire, il tennis è un gioco di riflessi? No, è tutto il resto. Poi è chiaro che Federer era un'ottima reattività. Ma è tutto l'insieme, la preparazione mentale, la preparazione atletica, la parte tecnica. Devi essere uno scacchista per capire esattamente quale sia la strategia giusta. E poi uno sport singolo, a meno che non giochi il doppio. E quando giochi in un sport singolo? Quando vinci, vinci tu, merito tuo. Quando perdi, è colpa tua. È duretto, capito? Ti abitui a essere abbastanza coriaceo, se vuoi vincere. Se no, stai a casa a fare la marmellata. La prossima volta che vi girano uno di questi video, di qualche gonzo che fa qualche numero da circo, pongisti, che ve lo spacciano come qualcosa di fenomenale, per quanto riguarda... Vi prego, fategli vedere questo video, per scavare nella reale verità di cosa sia il tennis tavolo. A presto!